Siamo con il team manager Consalvo, una partita che ha avuto un secondo tempo e non è andato benissimo, il risultato non è buono per la spesso, però come si commenta in generale, cosa da dire su questa partita? Beh, ci mancavano molti giocatori, purtroppo nel momento migliore della squadra abbiamo preso l'1-2 che ci ha buttato a terra e è finita lì la partita, bravi ragazzi, bravi tutti la prossima ci mettiamo un po' di più. Dal punto di vista dei ragazzi sicuramente ci sono stati alcuni spunti sotto il punto di vista dell'impegno, anche degli spunti di vista tecnici, questa cosa appunto che sono mancati altri ragazzi sicuramente ha pesato perché hanno cambiato quasi tutta la squadra gli avversari, quindi chiaramente questo poi fa la differenza. Ovviamente al secondo tempo siamo rimasti praticamente con tutta la panchina vuota e non avevamo più niente da dare, poi sul 3-4-1 è finita lì la partita, basta. Con come si affronta la prossima? La prossima lavoro, 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 allenamento, allenamento, allenamento e una per volta. Grazie. A voi, saluti.